Ciao a tutti ragazzi qua Dexta e oggi sono qui con questo nuovo video E oggi ragazzi volevo augurarvi buon natale, volevo farvi i miei auguri di buon natale Buone feste insomma per tutti questi giorni un po' impegnativi che ci sono Il gameplay che state vedendo ragazzi non lo sto registrando adesso Quindi c'è il mio joystick come vedete qui Non sto registrando mentre parlo ma sarà una cosa che monterò dopo Perché sicuramente il gameplay che state vedendo riguarderà la neve su GTA Io purtroppo penso ragazzi di non avere tempo Infatti questo video lo sto registrando un po' prima Perché penso di non avere tempo di insomma registrare qualcosa su GTA con la neve Dato che giocare in giorni di festa è veramente difficile Il tempo è praticamente pochissimo Quindi ho registrato un paio di video prima come questo qui da portarvi insomma in questi giorni E come gameplay appunto sicuramente vi metterò qualcosa riguardo alla neve Che purtroppo dura pochissimo su GTA Comunque sia volevo appunto augurarvi buon natale Ringraziarvi ragazzi di tutto il supporto che mi date Con i mi piace con i commenti con i messaggi Veramente ragazzi volevo ringraziarvi Mi dispiace di a volte magari non poter rispondere a tutti i messaggi Perché sono veramente tantissimi siete in tanti Però volevo comunque ringraziarvi di tutto il supporto che mi date È veramente bellissimo E augurarvi buon natale E quindi che dire nei prossimi giorni vedrete ovviamente magari dei gameplay Questo è un video un po' vlog un po' gameplay Un qualcosa che monterò dopo sarà un po' strano Dato che di solito gioco sempre ragazzi mentre registro i video Adesso invece sarà un qualcosa che dovrò montare dopo Comunque sia nei prossimi giorni vedrete sempre vari video divertenti come al solito Anche in tutti questi giorni usciranno dei video Nonostante le festività eccetera Perché ho registrato appunto come ho detto prima qualcosa prima E quindi riuscirò ragazzi a caricarvi qualcosa nonostante il poco tempo Detto questo non la volevo farvi ragazzi Mi auguri di natale Qui a Dexta lasciate un bel mi piace E ci vediamo al prossimo video Ciao